...tervino verso Fontana, controlla il pallone, poi effetto un traversone a cercare Sosa, ai 16 metri, spizza di testa con Sonny, si rito nel metodo, si rito la rete, si rito la rete, si rito la rete, con Sonny, con Sonny, con Sonny, con Sonny, D'Artagnan, 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 con Sonny, la scoccata vincente di D'Artagnan con Sonny, fa esplodere il San Paolo, con Sonny, ha gonfiato la rete, al 92esimo minuto!